musica 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 тут fai... come si chiama la famiglia? c'è l'iris iigo! fare il... No, la cassa No, 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 non lo sopporto più, vado Andiamo a fare un blocco, un mezzo blocco Come hai fatto? Cioè, hai scelto il senso? Posso rifare questo? Ok, basta Hai visto che sono pescato e poi sono risolito? Ok, basta Ciao 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 Ciao